Questa sera ho il piacere, dopo tanti anni di televisione, legai, di giornale legato al mondo dello sposto, di parlare con il rappresentante, nel caso particolare il vicepresidente provinciale, di una categoria che è fondamentale, esattamente come gli arbitri, dimenticata, perché spesso non ci rendiamo conto che senza gli arbitri e senza questi signori, ovvero sia i cronometristi, non si potrebbe praticamente fare attività agonistica ufficiale. Abbiamo con noi Gino Asta e la prima domanda, le facciamo a Gino, è semplissima. Gino, cronometristi vuol dire uomini e donne, no? Sì, certo, senza dubbio. E voi quante ne avete di donne? Eh, guarda, il numero più ci sono. No, il numero esatto, ma sono parecchi? Ma abbastanza, abbastanza, sì. E allora, visto che voi vi occupate, lo vedrete anche dalle immagini, un poco dello sport a tutto tondo, vanno dall'atletica, sotto le varie forme, al nuoto, al ciclismo, eccetera, eccetera. Qual è il sport più difficile da cronometrare? Ma guarda, non è in particolar modo più difficile. Diciamo che ogni sua specialità ha le sue problematiche. Ecco perché dai corsi che noi facciamo all'interno, dai corsi di specializzazione per quanto riguarda i colleghi, praticamente ci teniamo sempre all'avanguardia con le nuove attrezzature e i corsi di aggiornamento per quanto riguarda tutti i problemi che può portare a una manifestazione. Ecco, le nuove attrezzature, noi eravamo abituati, signori della mia età, da vedere il cronometrista col cronometro in mano. Oggi invece c'è molta più tecnologie. Sì. Ormai il rilevamento è tutto fatto elettronico. Partiamo dalla fotocellula, che è un rilevamento di tempo elettronico, che poi abbiamo il crono scrivente, adesso abbiamo il nuovo inquadrato, il nuovo Rei 2, molto all'avanguardia perché addirittura ha la capacità di trasmettere il tempo direttamente via internet, di pubblicarlo, eccetera, eccetera. Quindi rende estremamente facile compilazione classifica, tutto, è molto più semplice. Allora, c'è sempre molta attenzione, molta professionalità. Diciamo che il lavoro è molto più snello, molto più veloce. Siamo in grado di fare una classifica in tempo reale. Siamo in grado di fare una classifica se la manifestazione si sta per svolgere a Ragusa, chiunque anche dall'America può seguire in tempo reale la manifestazione. Io lo vedo quando devo mandare gli articoli al giornale, per esempio per la maratona o roba simile, che oggi è davvero, se finisce all'una l'ultimo concorrente, io già alle tre ho tranquillamente tutte le classifiche e tutto quanto, e fate un grande lavoro. Ma quello che volevo sapere, perdoni al non addetto ai lavori, allora l'attimo che la pistola spara in una gara di atletica, parte automaticamente con che cosa? Con una fotocellula e il tempo? Sì. Il crono scrivente rileva il tempo di partenza, poi alla fine rileva il tempo di arrivo, fa la differenza e da lì viene fuori il tempo impiegato. Qua siamo ai centesimi di secondo praticamente? Sì, certo. E lo stesso vale per il nuoto? Per il nuoto praticamente abbiamo un altro rilevamento che alla fine ci sono le piastre. Cioè perché toccano quando... Il concorrente va a toccare la piastra e da lì il concorrente stesso va a fermare il tempo. Quindi praticamente quella famosa Olimpiade in cui non si capiva che aveva toccato prima, oggi non può essere perché l'attimo che le piastre toccano scatta. E' tutto elettronico. E' molto importante questo qui perché è evitato, una volta c'è la famosa fotografia per l'Ippica eccetera eccetera, e c'è il photo finish per esempio per gli arrivi in volata, per il ciclismo, no? Sì. Bene, e allora, quando voi... Cioè oggi per esempio facciamo finta che oggi c'è una gara ciclistica, è importante. La gara comincia alle nove. Quando è che il gruppo cronometristi comincia ad arrivare? Arriva prima? Sì, decisamente molto prima. Allora il nostro lavoro addirittura parte circa 15 giorni prima perché prendiamo i primi contatti con l'organizzatore in modo che si fa anche un sopralluogo per quanto riguarda il percorso, per quanto riguarda soprattutto la sicurezza dei colleghi delle varie postazioni di cronometraggio. Che ci sono i tempi intermedi e roba simile, no? Sì, poi senz'altro si arriva molto tempo prima, si prepara tutta l'attrezzatura, si fa un giro di prova e da noi che va a coordinare tutti i colleghi c'è il DSC, direttore servizio di cronometraggio, che praticamente va a sistemare tutto e in quel momento diamo l'ok all'organizzatore, al direttore di manifestazione, direttore di gara e da lì si può iniziare la manifestazione. Ecco, da qua si nota il fatto che deriva dal mondo delle corse lei. Sì, nel mondo delle corse ovviamente lei ha toccato un altro argomento che è molto importante, che non c'è ovviamente per l'atletica, c'è il problema sicurezza, perché le postazioni dove sono messi i cronometristi per prendere i tempi intermedi e per certi rilevamenti particolari comportano anche il fatto che bisogna garantire a tutti i livelli la loro sicurezza. Lei ha avuto qualche volta qualche problema? Sì, visto che io ho preso il ruolo anche di DSC, praticamente sono andato a fare dei sopralluoghi nelle varie manifestazioni. Una che possiamo prendere in esempio è la Coppa Montiblé, che è una gara molto importante qui, soprattutto nella nostra zona, perché è una gara per il trofeo italiano velocità montagne. Lì addirittura la G-Sport nomina un supervisore per quanto riguarda la sicurezza di tutte le postazioni che va a interloquire con il DSC. Ovvio, in modo tale da poterla garantire. Altra curiosità, c'è mai qualcuno che vi fa pressione? Dice, dai sbrigati, sbrigati, no? Sincerane? Senza dubbio. Infatti dobbiamo, ecco perché la nostra presenza molte ore prima sul campo di gara, per essere sempre pronte, per essere sempre professionale e naturalmente svolgere quelle cose che purtroppo hanno il tempo. Certo, poi il tempo che ci vuole, che ci vuole. Allora, credo che un altro, e qua andiamo nella seconda parte, quasi verso la parte conclusiva, uno dei compiti fondamentali, visto anche l'evoluzione del mezzo tecnico che sicuramente aiuta e rende il cronometraggio quanto più perfetto, quanto più fa, credo che sia la cosiddetta formazione continua. Voi fate corsi, roba simile. Sì, certo. Tutti gli appassionati che si vogliono avvicinare a dare, non praticamente vivere allo sport come concorrente, come protagonista, ma dare un servizio allo sport. Fondamentale. Perché noi diamo un servizio fondamentale allo sport. È facilissimo, si può collegare nel sito www.ficre.it, nel sito nazionale della federazione. Voi siete ovviamente affiliati al CONI, in Roma, sì, senz'altro. Praticamente si collega al sito, c'è una richiesta da compilare con i propri dati anagrafici, da mettere necessariamente il CAP della propria città, e poi Roma smista queste richieste alle varie associazioni. Noi facciamo questi corsi, facciamo dopo il corso che dura tre, quattro giorni, due, tre ore al giorno, praticamente c'è da sostenere un esame. Da questo esame diventa allieve cronometrista. E già col tesserino, già con tanto di tesserino. Sì, con la licenza, tutto che può presenziare una postazione di cronometraggio a fianco a un cronometrista esperto. Da lì, dopo un periodo, circa due anni, deve sostenere un altro esame, un altro esame per diventare cronometrista effettivo. Bene, quindi non è impossibile che lo può fare chiunque, basta avere, credo, 18 anni. Sì, basta 18 anni e tanta voglia di sport. Allora Gino, volevo anche chiederle, c'è una nuova frontiera? C'è qualche nuovo aggeggio che voi sperate che arrivi o che è appena arrivato, che rende ancora, che perfeziona ancora il cronometraggio e roba simile? Sì, per quanto riguarda le manifestazioni che noi facciamo alla FMI, che sarebbe la Federazione Motociclisti Italiana, soprattutto... Motociclisti vuol dire auto e moto, ovviamente? No, chi rappresenta l'automobilismo è la G-Sport a livello nazionale. Ok, capito. La FMI sono solo motociclismo, solo moto, che va dal motocross all'enduro su pista. Per quanto riguarda il motocross è molto importante il rilevamento tempo perché la partenza è tutta insieme, per cui ci vogliono dell'attrezzatura molto più specifica che sono i transponder. Invece, per quanto riguarda la G-Sport... La G-Sport che sarebbe collegata ogni mezzo? Sì. Che poi viene rilevato, come succede per le macchine in pista praticamente. Esatto, esatto. Stavo dicendo proprio quello, per quanto riguarda invece la G-Sport un'altra manifestazione importante sono i rally. I rally perché? Perché il rally oltre la parte dove c'è la prova speciale c'è il trasferimento. Nel trasferimento ci sono i CO che sono controllo orario. Al controllo orario si presenta l'equipaggio per timbrare l'orario di passaggio. Invece da lì si potrebbe con le nuove apprezzature che stiamo aspettando ci sono i rilevamenti direttamente con i transponder. Ho capito. Quindi, diciamo, è un settore ripeto fondamentale, estremamente affascinante perché poi si vive la gara il meeting atletico la gara ciclistica tutto quanto si vive proprio direttamente sei al centro dell'azione senti vedi proprio il campione vedi vedi la gente vedi la rabbia la delusione tutto ciò segui il mondo agonistico proprio come nessuno da protagonista perché il cronometrista è un protagonista fondamentale assolutamente allo stesso livello di coloro che corrono saltano nuotano eccetera eccetera andando a chiudere Cino e ringraziandola per la sua cortesissima partecipazione volevo dire una cosa abbiamo scoperto che chiunque può volendo chiedere all'associazione e poi seguire cosa ma il signor Rossi che vuole sapere io voglio sapere a chi mi devo rivolgere se da domani mattina voglio c'è un sito c'è un telefono cosa c'è c'è il sito internet della federazione italiana cronometrista quindi vanno lì mi diranno sezione ragusa eccetera www.ficre.it perfetto e allora detto questo io credo che abbiamo così provato a raccontare un po' del come si dice del backstage del dietro le quinte ma nel caso particolare è uno strano dietro le quinte perché avanti le quinte siete davanti a tutto di quei signori che come gli arbitri come i giudici di linea al tennis e tutti quanti rendono possibile le manifestazioni e una cosa che volevo dire me ne sono accertato proprio qualche istante prima di iniziare è chiaro che se domani mattina un nostro notatore in una gara disputata a Ragusa o in zona una piscina la più grande mi pare che dove a Chiaramonte o a Modica quelle se non vado errato quella ufficiale da 50 metri mi pare che sia a Chiaramonte a Comiso in una gara a Comiso riesce a realizzare un tempo che è primato italiano la registrazione fatta dai cronometristi di Ragusa è a tutti gli effetti è un tempo ufficiale ne possiamo citare uno così Luca Marin quando aveva all'età di 10 anni il tempo ufficiale per andare in nazionale l'abbiamo fatto all'associazione di Ragusa perfetto e allora detto questo è chiaro vuol dire che è un'organizzazione a livello nazionale dove si è tutti pari e ci sono da sperare che ci siano grandi risultati dei quali rendere conto e cronometrare grazie a Gino Arsta vi saluto grazie a voi buonasera a tutti